Ciao da Nicoletta e oggi dedico la pillolina alla rissa che proprio un po' di tempo fa mi parlato di Marilyn Monroe, senti cosa dice Marilyn Monroe, io credo che tutto accada per una ragione, le persone cambiano perché tu possa imparare a lasciarle andare via, le cose vanno male perché te le possa apprezzare quando invece vanno bene, crede le bugie perché poi imparerai a non fidarti di nessuno a parte te stessa e le persone più care e qualche volta le cose buone vanno in pezzi perché cose migliori possano accadere, rifletti, penso che solo queste semplici parole possono darti tanto, le persone cambiano perché tu possa imparare a lasciarle andare, le cose vanno male perché tu le possa apprezzare quando vanno bene, a te la riflessione, ciao, ciao ciao da Nicoletta e da Marilyn Monroe e da Larissa, ciao! ciao 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 ciao